Salve a tutti, sono Martina Ardizzone, attivista del Movimento 5 Stelle a Paternò. In queste settimane abbiamo girato per i quartieri della città con l'obiettivo di raccogliere e condividere le idee dei cittadini da inserire nel programma elettorale dell'amministrativa del 2017. Il nostro scopo è quello di mettere il cittadino al centro di un progetto e dare un nuovo volto alla città di Paternò. Ma le nostre attività non finiscono qua. Per essere aggiornati seguiteci nella pagina del Movimento 5 Stelle Paternò.